RSC, RSC, Radio Studio Centrale Amici belli, oggi pomeriggio in Salotto ritroviamo un amico del Salotto perché è già venuto a trovarci e ogni volta che viene a trovarci ci parla sempre di bellezza del resto è un architetto, architetto Basile, Renato bentornato Grazie, grazie a voi per ospitare sempre queste iniziative che portiamo avanti E lo dobbiamo fare, quando io me ne accorgo immediatamente di contatto fra l'altro mi capita sempre di accorgermene proprio lì lì quando stanno per cominciare e infatti in questo caso stiamo parlando di un evento che è già partito mercoledì che è stato già inaugurato e mi spiegavi tu fuori onda che in un certo senso è un evento nell'evento Sì, ho voluto portare l'architettura di 50 studi di progettazione all'interno della grande architettura che è il Monumento ai Caduti e questa è la settimana dell'anteprima nel senso che abbiamo presentato i progetti tra i professionisti ma la terza settimana di settembre ci sarà questa grande mostra che verrà ampliata ad altri 50 studi di architettura tra provincia di Siracusa e Ragusa Farei un piccolo passo indietro perché non dobbiamo mai dare per scontato che i nostri ascoltatori si ricordino tutto quello che abbiamo raccontato nel tempo tu sei colui che ha il merito a mio avviso di avere recuperato una struttura decisamente abbandonata per tanti anni o meglio più che abbandonata lasciata al proprio destino in un certo senso che è appunto il Monumento ai Caduti che troviamo a lungomare di Catania tu hai recuperato questa architettura contemporanea l'hai valorizzata e l'hai anche raccontata, veicolata perché chi conosce l'arte contemporanea come un architetto è in grado anche di spiegare in un certo senso le cose Sì, infatti devo dire che molte delle persone che arrivano la prima cosa mi chiedono cos'è quindi questa forma, chi l'ha progettata come mai di cemento armato e non di pietra quindi tante domande che non trovano scritte da nessuna parte Stiamo già preparando infatti un testo da lasciare alla città in modo tale che così chiunque possa venire a conoscenza della formazione della struttura Che ha anche un interno perché io, così come ho raccontato l'ultima volta ci tengo a sottolineare che noi siamo tutti o quasi tutti convinti che sia quello che vediamo mentre in realtà c'è un dentro un dentro peraltro molto affascinante che ricorda un po' le viscere e questa particolare conformazione crea il presupposto per creare delle belle storie da raccontare all'interno Assolutamente sì infatti nella prima parte dell'edificio abbiamo aperto questa galleria espositiva che si chiama Monu Gallery diminutivo di Monumento quindi siamo riusciti a restare vicini al nome principale mentre dall'altra sala abbiamo una sala proiezione quindi una sala che racconta una sala dove si possono riunire varie organizzazioni, associazioni quindi uno spazio un vero e proprio incubatore culturale per la città a totale disposizione quindi questo cosa significa? che se per esempio un'associazione culturale che vuole organizzare degli incontri su un tema X vuole farlo lì? si può contattare? si, assolutamente sì i numeri sono ufficiali l'indirizzo email è tutto pubblico c'è una pagina Facebook Monumenti ai caduti di Catania quindi basta scrivere e valutare poi la data e l'organizzazione dell'evento molte volte ci poniamo il problema anche sugli spazi che questa città offre per fare determinate cose di cui fra l'altro abbiamo un grande bisogno questo ormai lo sottolineo quasi ogni giorno come se fosse un mantra senti, domenica che cosa succederà? perché domenica succede qualcosa di particolare dicevo l'evento nell'evento sì, domenica invece abbiamo la festa dell'architetto che si estende per tutta la settimana ma nello specifico al Monumento dei Caduti avverrà una premiazione di alcuni progetti alcuni studi di architettura e poi tanta musica tanta musica aperta alla città quindi aperta a tutto il lungomare quindi chiunque voglia vedere sia la mostra fra l'altro domenica a che orario? alle 21 alle 21 quindi ecco domenica si va a fare la classica passeggiata a lungomare quale migliore occasione per conoscere qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni che magari non conosciamo però io voglio entrare fra poco nel merito dell'evento perché c'è la mostra quindi voglio capire anche chi hai coinvolto molti tuoi colleghi so ma anche ciò che avverrà all'interno di Museo Reba ne parliamo fra pochissimo RSG RSG Radio Studio Centrale rieccoci ancora una volta con l'architetto Renato Vasile il nostro amico Renato ecco preferisco dire così mi piace di più ecco stavamo parlando di architettura in mostra presso questa galleria molto particolare che è Mono all'interno del monumento ai caduti del lungomare dicevamo che domenica ci sarà questa premiazione ma intanto si può visitare la mostra sì tutti i giorni dal giorno 20 al 29 giugno dalle 18 alle 21 che cosa vedrebbe chi per esempio andasse stasera a fare una passeggiata allora vede 50 progetti dei migliori studi di architettura che abbiamo selezionato e confrontare lo stato di fatto quindi come era prima l'edificio e la metodologia progettuale che l'architetto ha applicato con le foto finali dell'opera quindi tutto abbastanza semplice elementare cioè non è per addetti ai lavori per farvi capire la bellezza la possiamo capire tutti ciascuno a modo proprio evidentemente in base alla propria esperienza di vita che ha però tutti siamo in grado di intercettare la bellezza anche i bambini che non hanno alcun genere di diciamo struttura culturale percorso di vita capiscono ciò che è bello questo ci fa capire che l'essere umano è già predisposto per questo genere di comprensione e di comunicazione se pensiamo ai graffiti degli uomini preistorici era già una forma d'arte e di comunicazione del resto l'arte è sempre comunicazione non c'è storia andiamo infatti a un'altra bella storia perché siccome l'architetto Basile è uno che ama fare tante cose qualche anno fa ha dato vita al museo Reba a San Berillo tra l'altro il museo Reba che nell'ultimo anno diciamo l'abbiamo un po' trascurato lo ammettiamo perché presi ti sei dedicato un po' più al monumento che tu ti devo dire che da quando abbiamo queste due strutture anche perché diciamo che l'architetto poi lavora anche nella vita dobbiamo spiegarle giustamente diciamo che tutti questi questa è una passione una passione per la mia città che portò avanti con grandi sacrifici ma condiviso tra l'altro con tante persone che insomma credono a questi progetti tra cui l'apertura appunto del museo Reba a San Berillo nel centro a metà di Via delle Finanze lo stiamo ripulendo in questi giorni è sabato 30 giugno avremo la possibilità di poter vedere anche il cortometraggio che è stato girato in occasione dell'Expo a Milano proprio per presentare San Berillo in cui abbiamo Carmen Consoli come ospite Giovanni Caccamo Luca Madonia tutti amici che si sono prestati in questo raccontare San Berillo quindi raccontare un quartiere che ha una storia infinita da poter trasmettere per cui sicuramente terreno fertile per la narrazione e quindi giorno 30 si potrà vedere questo cortometraggio e poi le mostre le mostre di arte contemporanea quindi tutte le sale saranno allestite ingresso gratuito libero sabato 30 sabato 30 giugno museo Reba il cuore di Catania San Berillo Via delle Finanze più chiaro di così e vabbè io mi sono già prese i miei appunti anche per quanto riguarda me domenica non lo so se ce la faccio però ma giorno 30 non posso perdermelo anche perché devo dirti la verità non sapevo di questo cortometraggio quindi adesso sono super curiosa di vederlo guarda Renato è sempre un piacere chiacchierare con te io ti ospito sempre volentieri però adesso lo dico così durante la chiacchierata ogni tanto ricordamene tu le cose che fai perché fai un sacco di cose a volte a me sfuggono poi lo scopro in un secondo momento ci rimango anche male dico mannaggia ne potevamo parlare in trasmissione va bene rimedieremo 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 anche perché le attività sono tante e sono tante appunto quindi parliamone si può fare si può fare io ti ringrazio alla prossima grazie a te e a tutti voi rsc rsc radio studio centrale a te a te a te a te